Dario Quattrucci parte da un free roll e arriva a un master? Esattamente, ho qualificato pochi giorni fa, ho fatto questo free roll quasi per caso e ho avuto la fortuna di qualificarmi. Comunque la struttura dell'evento è stata veramente ottima, molto giocabile, ottima organizzazione. Allora, andiamo nei dettagli. Tu giochi intanto anche versando qualche soldo sulla Poker Room? Si spera di tirarli fuori anziché di versarli. Versandoli, nel senso hai fatto prima un versamento? Ovviamente sì, ho prima versato e quindi tramite quelli ho iniziato a giocare. Perché c'è anche chi parte solamente con il free roll, lo diciamo, si può. Ottimo, anche perché il GD fa veramente tanti free roll, quindi dà l'opportunità anche a tutti questi che vogliono iniziare così e giocare in questo modo. In quanti eravate? Eravamo 930 più o meno. E il master lo vincevano in quanti? Due persone. Io e un altro che non ricordo il nome adesso. Come ti sei sentito in quel momento? Ero molto contento, veramente contento. Così ho potuto risparmiare il buy-in abbastanza oneroso anche di questo torneo. La fortuna ha inciso molto? Abbastanza, ci sono stati colpi importanti. Poi comunque quando ci sono state sette ore di torneo non si può parlare soltanto di fortuna. E adesso il cospetto dei campioni? Daremo il meglio. Grazie. Grazie.